Mi stupisce il fatto che tutto sommato Andrea e Vittoria e tutti gli altri che con loro hanno contribuito fin dall'inizio alla diffusione della fotografia italiana e di quanti, soprattutto in quegli anni, iniziavano a proporsi anche a un livello più ampio, un contesto internazionale. Mi stupisce il fatto che ci sia stato ad oggi ancora un riconoscimento tutto sommato molto locale, senz'altro regionale, ma anche in quel caso, a mio avviso, al di sotto di quello che Dreyfoto merita. Dico questo non solo per l'amicizia che da molti anni mi lega a loro, quanto proprio per il rispetto e la stima che nutro nei confronti di Dreyfoto, che è stata e ancora è oggi in Italia, per molti anni un riferimento non solo fondamentale, ma anche unico. Capace di guardare all'estero e di promuovere la fotografia italiana, Dreyfoto ha iniziato a far mostre, come dicevo prima, nel 79 e se guardiamo le mostre fatte in quegli anni, Fulio Ventura, Guido Guidi, Luigi Ghirri nell'81 e subito dopo Cartier-Bresson e Diane Arbus, non sono nomi che dobbiamo scoprire o rispetto ai quali è necessario lavorare di memoria, sono storie della fotografia e non solo italiana. Questa insistenza poi nel sostenere il paesaggio e lo sguardo sul paesaggio dei fotografi italiani si consolida negli anni successivi, immediatamente con le mostre di Vittore Fossati, Oligo Barbieri, Piero De Lucca, Giovanni Chiaromonte. L'esperienza e il lavoro di Dreyfoto è veramente importante. Tra l'altro vedo adesso, mi ricordavo questa mostra di Micah Schmidt, ma non mi ricordavo che venne organizzata, venne proposta addirittura nell'84. Oggi Micah Schmidt è uno degli autori più stimati e più studiati dagli autori contemporanei. Viene quasi da dire che quella di Dreyfoto è stata più una missione che non una impostazione tradizionale con cui oggi noi intendiamo il lavoro di una galleria di arte contemporanea concentrata sulla fotografia. Una missione senz'altro ispirata dall'interesse che i fondatori e in particolare Andrea Abati con Vittoria Ciolini hanno sempre avuto verso un tipo di fotografia, che è lo studio del paesaggio, lo studio del contesto urbano e di come interagiscono e si sono poi modificati negli anni questi territori e di come soprattutto poi la fotografia è intervenuta, studiandoli, analizzandoli, decontestualizzandoli. Teniamo presente intanto che negli ultimi 40 anni, quindi dal 1980 ad oggi, è cambiato moltissimo, non solo rispetto alla fotografia, ma anche all'arte in generale, arte contemporanea in generale in Italia come all'estero. Nella fotografia c'è stata addirittura quasi una rivoluzione, in particolare in Italia, soprattutto da metà anni 90, da quando una serie di editori internazionali hanno cominciato ad avere un mercato vero, reale, concreto anche in Italia e immediatamente dopo questo mercato ha iniziato a riguardare anche autori italiani. Rispetto a questo passaggio tra i foto sicuramente si è trovata un po' spiazzata, intanto perché i protagonisti di questa avventura che ancora oggi continua non sono avvezze a questo tipo di lavoro e quindi hanno comunque insistito e continuato a considerare il lavoro di galleria più come un lavoro di ricerca e di nuove proposte e di riflessione sul linguaggio. Una delle caratteristiche di Dreyfoto è proprio sempre stata quella di non porsi dei limiti rispetto a quello che l'immagine può dare, a scapito chiaramente di quella che è appunto l'attività classica della galleria che invece cementa, solidifica, stabilisce, regola il rapporto con gli artisti con cui lavora. Questo è un lavoro che Dreyfoto non ha fatto e non ha nemmeno mai avuto a mio avviso intenzione di coltivare, proprio perché la propensione e l'approccio che la galleria ha sempre avuto, è sempre stato rivolto più all'indagine, più alla necessità di voler mantenere un legame molto forte con l'attualità, piuttosto che cercare degli sbocchi che potevano poi trovare una loro collocazione nelle fiere internazionali, nelle mostre, nei rapporti col collezionismo e con le istituzioni che a cominciare dai primi anni 2000 hanno iniziato anche a collezionare opere fotografiche di autori italiani come di autori stranieri. E considerando che quasi tutti i più grandi nomi della fotografia contemporanea, soprattutto di quella fotografia che ha sempre indagato le mutazioni del paesaggio, sono in effetti passati da Dreyfoto, ecco, poco in un certo senso poi è stato raccolto dalla galleria da un punto di vista proprio di beneficio economico. E forse questo tutto sommato ad oggi, rileggendo la storia di Dreyfoto, non è stato un male perché ha permesso alla galleria e soprattutto a chi l'ha condotto in tutti questi anni, di concentrarsi ogni volta e sempre in maniera più approfondita sulle nuove tendenze del linguaggio e delle immagini. Un aspetto che ho sempre considerato importante dell'attività di Dreyfoto è stato il lavoro sul territorio. Anche questo è un aspetto che pochi a livello di galleria tradizionale hanno perseguito o normalmente praticano perché tendenzialmente non rende, non gratifica da un punto di vista commerciale, economico, finanziario. Dreyfoto in effetti questo l'ha fatto di nuovo più per una propensione propria e per un legame molto forte con le istituzioni e con la città di Prato, con la regione toscana e l'ha fatto nonostante la presenza nel medesimo territorio di un museo ingombrante come il Museo Pecci che di conseguenza nell'ambito contemporaneo ha sempre avuto un ruolo di primo piano ed è stato sempre considerato l'interlocutore numero uno per la città e per la regione. Ma anche in questo senso la capacità di Dreyfoto, in un certo senso, di smarcarsi da quello che era un po' la linea ufficiale del museo e di poter e di riuscire al contempo a sviluppare dei propri progetti va apprezzata e oggi va assolutamente considerata come un punto di forza nell'attività quarantennale di Dreyfoto. Cosa oggi significhi Dreyfoto nell'ambito nazionale? È una domanda alla quale mi sento in difficoltà a rispondere proprio perché per certi versi potrei aspettarmi di tutto da Vittoria e Andrea. Alcuni progetti che loro hanno portato avanti negli ultimi anni sempre in relazione al territorio ma anche con uno sguardo di nuovo internazionale la loro capacità anche di intercettare giovani artisti internazionali a diverso titolo e oggi con diversi mezzi anche utilizzando più mezzi contemporaneamente lavorano sulla fotografia è qualcosa che sorprende sempre quindi non saprei collocare la loro esperienza nel 2020 in un contesto nazionale che di suo già mi pare molto difficile a decifrare. Credo che la loro esperienza rimanga comunque un punto di riferimento importante ma soprattutto andrebbe riletta tutta la loro attività e meriterebbe forse la storia di Dreyfoto uno studio, una sorta di seminario per capire come dal 1979 ad oggi questa lunga avventura nel mondo delle immagini sia riuscita a srotolarsi, ad avere una sua storia tutto sommato sempre molto lineare, consapevole soprattutto. Un aspetto sicuramente da rimarcare nella storia di Dreyfoto è la longevità nella galleria e la capacità di Vittorio Ciolini, Andrea Abati e di quanti altri hanno contribuito negli anni allo sviluppo, all'affermazione e anche una continuità programmatica oltre che di ricerca sono proprio i 40 anni oltre che testimoniano tutto questo lavoro Dreyfoto oggi è probabilmente la galleria più vecchia d'Europa ogni qualvolta la galleria inventa o decide di proporre progetti nuovi non ha nessuna difficoltà a relazionarsi con artisti importanti ha un credito e ha una rilevanza in termini proprio di contenuti ma soprattutto direi di linearità, di serietà che negli anni è andata stratificandosi il lavoro fatto da Dreyfoto è una scommessa continua se Dreyfoto è rimasta per 40 anni e ancora oggi è un punto di riferimento nella ricerca sicuramente lo deve anche il fatto di poter agire e di poter lavorare in una situazione tutto sommato tranquilla come è quella toscana grazie mille grazie mille